è insonorizzata ben trovati all'ascolto di Radio Radicale in questo spazio di eh programmazione presentiamo un libro e siamo eh molto contenti eh di avere qui nei nostri studi eh l'autore Giorgio Moscatelli che eh salutiamo Giorgio bentrovato il titolo del libro è Santità faccia finta di pregare racconti di un inviato poi abbiamo Rita eh Mattei eh ovviamente certo non per seconda ma solo perché Giorgio è l'autore e quindi l'abbiamo presentato per primo ma ti ringraziamo tantissimo e poi Walter Becellio che eh non ha bisogno di eh presentazioni perché insomma i nostri ascoltatori ben lo eh conoscono voi siete tutti tra l'altro eh diciamo venite tutti dalla stessa dalla stessa redazione quindi vi conoscete da moltissimo tempo immagino dal novantuno per quel che mi riguarda prima 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 e voi prima e voi da prima va bene ci fermiamo qui eh e siamo collegati con il presidente della federazione nazionale della stampa Beppe Giulietti Beppe bentrovato bentrovato bentrovati bentrovati bentrovate allora Beppe visto che eh il eh l'occasione per questa eh riunione è il libro di eh di Giorgio beh insomma io direi di partire proprio da questo eh come come l'hai trovato che cosa che che impressioni ne hai avuto insomma perché questo è un vero e proprio racconto ho fatto anche la prefazione al libro quindi appunto ma io in genere mi rifiuto di scrivere anche una riga sulle tante cose che non sopporto il libro di Moscatelli lo trovo un libro ironico un libro divertente un libro che racconta lo disse meglio di me lo ha detto in una presentazione Walter Vecelio eh e un libro che racconta una stagione che c'è stata c'è stata c'è stata è stata la stagione di un altro servizio pubblico è stata la stagione dove c'era l'idea che il prodotto fosse collettivo che l'operatore Moscatelli è stato un grandissimo eh giornalista per immagini eh il giornalista di sono Rita e Walter Vecelio e fossero legati da una catena che le immagini fossero parte del racconto che non ci dovesse essere sciatteria che immagini e testo dovessero come dire essere rispettose della sensibilità e dell'attenzione del pubblico che l'obbligo alla descrizione venisse prima dell'obbligo eh alla propaganda eh c'era anche un senso proprio della curiosità per andare oltre i confini Giorgio Moscatelli ha girato il mondo eh ma è stato anche un grandissimo eh perché lui ha lavorato se lo ricordo male con Rita Mattei che ha scritto in questi giorni il libro di Nananna e con Walter su altre grandi questioni i processi i temi la Sicilia e il tutto sempre con una fortissima discussione con un senso proprio un senso critico nel senso migliore del termine costruire ogni ora il il pezzo costruire ogni ora eh il servizio per per arrivare non tanto primi per arrivare in fondo per arrivare alla radice del problema quindi eh io confesso mi è piaciuto un libro divertente ma poi Walter e Rita hanno molta più competenza ed esperienza una sola curiosità una sola ringraziarvi io vi avverto che se a un certo punto sparirò e perché io ho in corso un consiglio nazionale della federazione ma non volevo perdere questo appuntamento per il senso di stima di affetto che ho per i presenti e anche per una radio che anche questa mattina fatemelo dire c'è stata una grande manifestazione contro le querele bavaio molti hanno disertato molti hanno fatto finta di non saperlo radio radicale invece ancora una volta ha dato vita a tutte le nostre voci quindi fatemi approfittare anche per ringraziare tutta la comunità. Grazie grazie a te presidente ehm una curiosità che immagino ehm gli ascoltatori nel momento in cui eh diciamo si avvicineranno a questo libro avranno il titolo Giorgio poi entriamo entriamo proprio nel nel vivo. Santità faccia finta di pregare. Diciamo che è la cosa che mi chiedono tutti ovviamente perché eh Santità è un aneddoto che tutti e tutti tutti quelli che lavorano in RAI conoscono. Brevissimo aneddoto cioè un vecchio operatore un vecchio cameraman un vecchio giornalista per immagini ehm era a cospetto del Papa che però lo vedeva distratto doveva fare delle immagini del Papa che pregava però non si era distratto si guardava in giro era Paolo VI e lui quindi gli disse Santità faccia finta di pregare e quindi insomma questo ha scatenato ovviamente il cerimoniale insomma ed è diventato storia a questo punto si fanno anche delle trasmissioni con questo con questo nome insomma e io ho pensato di metterlo si dice come dire quando uno scrive un libro si dice devi trovare un titolo accattivante questo secondo me è accattivante insomma. Walter? Ma e allora vorrei dire abbiamo svelato il mistero o comunque la curiosità del titolo parliamo un attimo del suo protagonista dell'autore questo se non ricordo male credo che sia ci sono tanti giornalisti scrivono quando appendono la cosiddetta macchina per scrivere il computer o quello che vogliamo al chiodo che raccontano le loro esperienze io credo che questo sia l'unico libro di un telecine operatore che racconta come ha vissuto e viveva dietro la telecamera dietro l'occhio della telecamera il sottotitolo racconti di un inviato è vero lui Giorgio Moscatelli era inviato prima del tg2 poi del tg3 poi di non so quale altra attestata della rai però ecco telecine operatore perché all'epoca lui e gli altri suoi colleghi avevano anche l'orgoglio della telecamera non era un mero supporto così di aggiunta rispetto al testo era la parte essenziale del racconto in un servizio televisivo prima io dovrei avere cura di avere le immagini e sulle immagini posso costruire un testo fare il contrario costruire un testo e poi scopro che non ho le immagini si va col nero ecco quindi questa è l'importanza del telecine operatore quando poteva lavorare in una rai non troppo lontana ma che sempre più si allontana e questa è una delle peculiarità credo del libro poi mi verrebbe in mente che se ci fosse un minimo di saggezza nella rai rete 1 rete 2 rete 3 comprerei immediatamente i diritti d'autore di questo libro per poterne ricavare adesso li chiamano docufilm vabbè sceneggiati docufilm poi anche se non sono più capaci di farlo perché parlo per me gli ultimi che ho visto mi hanno diciamo anche dal punto di vista tecnico deluso parecchio e naturalmente si capisce che mi riferisco sia purtroppo al marco bellocchio al moro ma soprattutto a quello di caro presti su marco pannella occasioni che ritengo assolutamente mancate ma dal punto di vista tecnico gli attori non erano all'altezza della loro della loro sfida detto questo mi incuriosirebbe molto uno sceneggiato si fanno tanti sceneggiati dove i protagonisti sono i giornalisti della carta stampata che sono eroi senza macchia senza paura invece uno sceneggiato che racconta il di dietro dalla telecamera come fa questo libro credo che potrebbe interessare uno spettatore se fatto bene e potrebbe anche chiarire e spiegare tante cose che accadono e che forse si ignorano beh anche perché il fil rouge che attraversa tutto questo libro mi sembrano mi sembrano essere proprio avvenimenti che hanno caratterizzato storicamente come dato di cronaca alcuni come dato invece magari diciamo più di costume però insomma fatti clamorosamente come dire centrali no quindi rita che cosa che ti è piaciuto di più di questi quale forse anche quello che magari ricordi perché avevi un coinvolgimento diretto ma guarda io con Giorgio ho lavorato per tanti di quegli anni al tg2 poi al tg3 quindi ci è capitato di farne tanti ma proprio tanti dei servizi molte cose le conoscevo molti di questi racconti li conoscevo alcuni li abbiamo vissuti insieme altri perché ce li eravamo raccontati poi li avevo visti andare in onda nel telegiornale eppure l'ho letto con molto interesse il libro intanto perché scritto in modo molto scorrevole ma poi perché Giorgio ha la capacità di essere veramente un antitodo allo stress per cui chiunque ci ha lavorato con lui questo non lo dico soltanto io ma lui riesce a trovare nelle varie situazioni anche quelle più incasinate o più drammatiche riesce a trovare l'attimo per la battuta riesce comunque a sdrammatizzarla una situazione e quindi di conseguenza ci calmiamo anche noi io o altri colleghi a seconda di chi sta lavorando con lui devo faticare e guardi io ti posso raccontare delle situazioni che abbiamo vissuto insieme e per dire quanto Giorgio veramente amasse e ama il suo lavoro lui è uno che pur di documentare veramente nella maniera più completa possibile un avvenimento dimentica tutto il resto dimentica di mangiare dimentica di andare a dormire dimentica tutto il resto esattamente e questo io l'ho potuto verificare in diverse situazioni e nel corso di un terremoto mentre lavoravamo sulle conseguenze di un terremoto sulle alluvioni a Sarno 15 in Piemonte e quali altre situazioni drammatiche lui racconta nel libro per esempio il terremoto dell'ottanta io non ero ancora in Rai lui era con un altro collega non c'erano ancora i mezzi che ci sono oggi per cui per poter raggiungere il posto del disastro era difficilissimo esattamente ma poi anche per andare a riversare le immagini era un mondo completamente diverso e infatti lui racconta che arrivati come si chiamava il primo posto dove siete fermati a Salerno con Enrico Messina forse eri? No 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 c'era un altro collega c'era gente che stava scavando a mani nude perché i soccorsi ancora non erano arrivati stava scavando a mani nude e lui racconta l'istinto sarebbe stato quello di fermarci ed aiutare queste persone a cercare vedere se era possibile salvare qualcuno però poi sono dovuti ripartire immediatamente verso l'epicentro del terremoto. Secondo me questo è proprio come dire il punto focale del nostro lavoro cioè quello di trovarsi in situazione terremoto alluvioni nelle guerre qualunque cosa quando vedi qualcuno che ha bisogno di aiuto sotto le macerie o comunque questi ragazzi questa gente i carabinieri primi arrivati perché erano passate tre ore dalla scossa lì c'hai il come dire l'istinto la coscienza ti dice ora mi fermo poso la telecamera e faccio aiuto questi questi poveri questi ragazzi e no lì invece quello che vale che esce fuori è che tu devi dare la notizia devi far vedere a chi sta a casa che cosa è successo come è successo quindi è come dire secondo me l'impegno più importante di un terremoto ma anche di un giornalista di qualunque giornalista perché devi e devi 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 dare la notizia devi devi far conoscere quindi devi andare via anche perché poi in quel periodo come detto tu si era nel momento di cambio tra il digitale tra l'analogico e il digitale quindi non c'erano tutti questi mezzi di trasmissione non c'era la possibilità di trasmettere in diretta se non con la cassetta che infilavi dentro il videoregistratore quindi dovevi montare in macchina ti dovevi immaginare quello che stavi cioè dovevi riprendere fare registrare immagini montandole mentre le giravi perché poi questa cassetta veniva tolta da telecam infilata dentro il videoregistratore e andava in onda quindi cioè era veramente difficile ma tutti lavoravamo in questo modo sia immagini che penna insomma sia sia tutti i giorni si lavorano in questo modo e quindi lì avevi il problema di dover partire da Salerno arrivare in un paese che si chiamava San Mango sul Calore entro le 7.45 perché alle 7.45 andava in onda il Tg2 noi lavoravamo tutti al Tg2 in quel periodo lui ancora non c'era ma noi già c'eravamo e quindi dovevi arrivare in tempo le strade non c'erano erano rotte erano crollate qui c'erano che si camminava sui 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 sulle tegole cadute a terra quindi cioè facevi quest'analisi allora io devo trasmettere se devo trasmettere entro le 19.45 devo arrivare lì almeno 5 minuti prima e così facevamo insomma voglio dire era complicato però poi alla fine era anche bello questo no c'è il senso della diretta il senso di a di arrivare a trasmettere cioè questi sono calcoli che ci facevamo io lei lui cioè dovevi arrivare in tempo per trasmettere la cosa più importante molti fatti in italia documentati ma anche molti fatti all'estero io adesso vorrei fare una riflessione a beneficio di chi ci ascolta ora tutti quanti noi credo conosciamo per esempio giovanna butteri bravissima corrispondente adesso credo a parigi stava prima pechino ha seguito la guerra la seconda guerra in iraq quando saddam viene rovesciato da bush figlio e per una serie di circostanze fortunate mentre lei era in onda arrivano i carri armati a bagdad e lei può dare in diretta questo avvenimento lei parla e si vedono dietro le sue spalle i mezzi i carri armati americani allora non giovanna butteri brava a già lei parlava è stato l'operatore che ha colto l'attimo l'ha immortalato è stato bravo lui a capire che quello era il momento di storia ora io credo che se facciamo un referendum tutti quanti dicono a giovanna butteri quell'immagine e il nome dell'operatore non se lo ricorda nessuno la stessa cosa potrei dire io per esperienza quando ci fu un fallito golpe a mosca e cercarono di rovesciare Gorbaciov le immagini delle statue dei dittatori comunisti che venivano abbattute dai moscoviti che non ne potevano più non le ho girate io io parlavo ma il mio parlato senza quelle immagini che cadevano non valeva niente era l'equivalente di un articolo sul giornale a cui non metti la fotografia quindi per dire il valore di questo signore e dei suoi colleghi che erano loro gli artefici dei pezzi di cui poi noi prendevamo la gloria il merito i benefici loro stavano di dietro i loro nomi non comparivano mai se non 30 secondi all'inizio del servizio e questo vorrei che insomma si tenesse presente se avesse consapevolezza dell'importanza almeno per quel che riguarda la televisione di questi signori che si chiamano telecine operatori senza la loro fantasia senza il loro buon umore anche perché è importante trovarsi in dei posti disagiati e sapere che puoi voltare le spalle a qualcuno senza che ti succeda niente perché quel qualcuno te le sta guardando e quindi tu puoi lavorare con serenità puoi scambiare delle opinioni ed essere arricchito da come vedele il lavoro di squadra di cui faceva faceva accenno Beppe Giulietti ora poi siccome sono uscito dalla RAI siccome siamo tutti i presenti non vincolati da particolari doveri di fedeltà nei confronti di questa azienda credo che ci si possa permettere di dire venuta meno questa coesione questo gioco di squadra i telegiornali non che prima fosse l'età del loro però certamente erano molto più curati molto meglio fatti di come sono fatti ora al di là delle responsabilità stesse di chi le fanno perché non gli danno la possibilità di poterlo fare abbiamo dei gran collegamenti e delle immagini di repertorio come spondo non si racconta quasi più la storia non si lascia più un gruppo di inviati telecine operatore e giornalista andare a seguire le storie questo libro è pieno di storie e la cosa bella è che si racconta la storia a ma c'è anche il lato b cioè quei aspetti che non non diresti di cui non sai retroscena che invece sono divertenti utili da da conoscere e ti aiutano a capire come certe cose poi sono avvenute allora la professione del giornalista rimane sicuramente una professione ambita per i giovani perché lo vediamo dalle scuole di giornalismo che sono bene dal fatto che ci scrivono molti ragazzi per chiederci un consiglio ma come è effettivamente cambiata la professione perché poi noi diciamo genericamente professione giornalista però non è che proprio sia tutto uguale no cioè c'è delle grandi differenze in questo caso l'inviato adesso gli inviati come lavorano secondo secondo me scusa vuoi parlare bene prego un po un po è cambiata la figura dell'inviato la figura dell'inviato perché per noi e per molti altri inviati come noi essere inviato significa innanzitutto partire e stare sul posto raccontare quello che vedi questo fa un inviato racconta quello che vede adesso sempre più si prendono le immagini che ti arrivano nei vari circuiti oppure si manda il telecine operatore e poi si lavora dalla redazione per esempio durante il covid io ho sentito parlare spesso dei giornalisti in smart working che secondo me è una cosa assurda come fa un giornalista a lavorare in smart working un inviato soprattutto c'era qualcuno che ci lavorava anche prima in smart working si comunque è un modo diverso per fare il giornalista questo è uno dei mestieri più belli del mondo però per farlo per farlo devi consumare la suola delle scarpe si diceva una volta no e io sono convinta che sia ancora così se tu non sei sul posto tu puoi leggere l'ansa puoi leggere l'agi puoi leggere le agenzie fare telefonate raccontare lo stesso un pezzo lo fai ma quello deve essere fatto nel primo momento in cui tu ricevi una notizia anche per l'emergenza poi devi partire devi raccontare quello che vedi devi respirarla l'aria che c'è in quel posto per poterlo raccontare bene cioè a me è capitato con Walter anche di seguire determinati fatti noi ci siamo ritrovati con Walter sulle stragi di Palermo sulle stragi del 93 a Firenze sì a Roma Milano e noi quelle stragi le abbiamo raccontate ma le abbiamo raccontate stando lì parlando con la gente parlando con i soccorritori assolutamente sì ma soprattutto quando fai delle immagini cioè tu tu non puoi costruire un pezzo un qualunque pezzo se non puoi ragionare sulle immagini ma certo ma questo va da sé in televisione poi l'ha già detto Walter questo se tu non hai le immagini oggi c'è oggi c'è anche un altro problema voglio dire io dico sempre che abbiamo vissuto un terremoto il passaggio dall'analogica al digitale poi il digitale che è in continuo come dire coinvolgimento ci sono delle novità delle innovazioni e il problema è proprio quello che si è reso quello che era una volta un mestiere un lavoro una professione di ricerca di qualità e di ricerca di storie di immagini insomma tutti voi sapete che tutti noi sappiamo che una volta si facevano le inchieste adesso ci sono chiesti non si fanno più c'era dossier c'era dossier ma il tv7 noi al tg2 abbiamo conosciuto la fase iniziale la fase la fase la fase la prima fase del tg2 dove si inventavano delle cose fantastiche quindi però adesso è proprio tutto cambiato ma non è cioè il mio è come dire in un qualche modo un aspetto da da anziano no cioè perché noi una volta facciamo del purtroppo oggi è così oggi abbiamo i telefonini non si va più in giro non escono più nei giornalisti arriva la notizia si arrivano le agenzie ma senza immagine immagini vengono date quante volte abbiamo visto volate basso perdonami nei telegiornali le cose non eclatanti una retata di criminali effettuata da carabinieri o polizia o guardie di finanza arrivano direttamente in studio le immagini straordinarie certo di automobili che entrano ed escono da una caserma con la targa carabinieri cioè noi non giriamo neanche più una caserma un esterno di caserma di carabinieri e ce le mandano loro per cui sul tavolo del giornalista che sta nella sua scrivania arriva un'agenzia che ha scritto qualcuno che sarà degno di fede ma non sappiamo chi è arrivano delle immagini che sono state girate dal telecine operatore dei carabinieri o della guardia di finanza o della polizia e noi dobbiamo assemblare quel testo comunque e quando dice ma vogliamo chiedere una verifica 9 su 10 la risposta di chi sta sopra dice si chiama l'ufficio stampa dei carabinieri e fatti dare la conferma che tu dici quel comunicato l'hanno scritto loro e io chiedo a loro se è vero quello che è scritto nel comunicato ecco questo è il 90 per cento purtroppo dei telegiornali rai e quindi quando ma io non credo non credo solo rai ma io parlo di quello che naturalmente credo no credo che mediaset abbia cominciato ancora prima della rai questa spirale però dico quando si parla dei guai della televisione e lì sarebbe veramente opportuno e necessario un convegno di due giorni ben preparato dove si ragiona sugli effetti deleteri della mancata informazione che fa la televisione che ancora oggi comunque costituisce la fonte primaria di informazione di questo paese perché abbiamo i computer i telefonini tutto quello che volete ma credo che almeno la metà di questo paese si informa attraverso telegiornali o attraverso le trasmissioni tv che tra l'altro sono telegiornali e molto spesso fotocopie insomma sono molto simili i servizi sono a parte diciamo la scaletta no una volta andava si diceva che i direttori dei principali quotidiani a un certo punto si telefonassero per mettersi d'accordo pulita è andata avanti così tutta la stagione però adesso probabilmente non hanno nemmeno bisogno di telefonarsi insomma no certo che no ormai sono abituato purtroppo ci sono giornali che considero spazzatura che sono gli unici che fanno dei titoli che steccano rispetto ai giornali rispettabili che invece sono fotocopie allora ci mancano pochi minuti al termine di questo nostro di questo nostro incontro il tema diciamo vorrei ritornare sul libro anche se poi volutamente non ho non sono diciamo entrata moltissimo nei dettagli perché vorrei che la curiosità spingesse le persone adesso la prende a comprare no e si trova in libreria libreria su amato ovunque ok quindi poi adesso ridiamo immediatamente ridiamo tutta quanto tutte quante le indicazioni precise e il fenomeno lo so che non si può fare in un minuto però mentre voi raccontavate io stavo pensando che è sempre più facile quindi costruire fake news e notizie false in questo modo perché mancando in prima persona e quindi con la responsabilità personale il giornalista che è lì presente è la possibilità di mandare in giro storie che non siano vere in questo da quando poi sono andato in pensione per come per hobby per per interesse ho cominciato a mica si va in pensione dal diventare giornal essere giornalisti no assolutamente no di fatti quando dice no perché lui è un ex giornalista no mai mai giornalista rimane giornalista come il presidente della repubblica stessa cosa il problema è internet cioè è inutile che ci nascondiamo internet sforna chiunque può scrivere su internet allora internet non si può dire che sia un fatto negativo assolutamente no perché vanno prese le cose come ci si ragiona super per cui no comunque internet è validissimo ma bisogna vedere come viene usato come viene usato da chi scrive allora io dico anche un'altra cosa chi chi scrive non è sottoposto a delle regole noi eravamo sottoposti a delle regole ora non so credo ancora ancora ci sono delle regole ci sono sempre tanto poi potremmo discutere di quanto diciamo le regole ci sono le regole ci sono quindi perché il il un giornale deve essere deve avere un direttore giornalista così per come per mandare avanti la categoria no perché c'è lui che è responsabile e se è responsabile controlla o dovrebbe controllare il lavoro che fanno i suoi capo 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 redattori insomma i suoi redattori quindi insomma già questo potrebbe essere un deterrente in un qualche modo su internet non c'è non c'è nulla chiunque ripeto può scrivere insomma no d'accordo premesso che errori si possono fare per carità ma certo certo ma la verifica delle fonti noi abbiamo sempre cercato di farla ma credo che molti colleghi lo facciano ancora mi sentirei di aggiungere che ero molto confortato quando dovevo fare i servizi da studio da roma dal fatto che cinque minuti prima c'era un capo redattore centrale che andava in giro per tutte le salette e controllava tutti i servizi e guardava se quel servizio poteva avere una sbavatura un errore che capita non è che non senza volerli fare succede siamo umani e però avevi comunque qualcuno diciamo che ti sorvegliava tra virgolette io credo che non ci siano più quel tipi di capi redattori che dall'una dalle mezzogiorno e mezzo diciamo se il telegiornale quello delle 13 per mezz'ora va avanti indietro in tutte le salette a guardare controllare testi immagini parlare con il giornalista con il montatore con 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 quindi se viene meno questo primo filtro se non si riconosce più l'importanza del lavoro di persone come giorgio moscatelli che ti davano la materia prima per costruire un servizio io scrivere un testo ci metto cinque minuti il problema sono le immagini lui ci mette due ore a trovarmi quell'immagine che serve e il montatore ci mette mezz'ora a selezionare quelle immagini più significative il giornalista che scrive è la cosa più insomma supplementare ci possono essere servizi che sono solamente fatti di immagini non c'è bisogno neanche del testo del giornalista allora noi ci fermiamo qui ci fermiamo qui però ovviamente intanto ovviamente io vi ringrazio tutti Walter Becelli o Rita Mattei e Giorgio Moscatelli santità faccia finta di pregare racconti di un inviato banale a dirsi ma stanno per arrivare natale quindi quale quale migliore possibilità per poter entrare in libreria e comprarlo e regalarlo soprattutto appunto regalare un libro perché i libri sono il regalo sicuramente migliore almeno per chi vi sta parlando ma immagino che anche per voi e per moltissimi di quelli che ci ascoltano grazie grazie ancora e rimanete in ascolto perché i programmi di Radio Radicale proseguono